Ho detto trova una montagna pianta Invece il piacere ne sa no che mi fa un malabietto E tu anche le discesi che mi è stronche e mi ci non c'è Ma che vuoi pianare? Ha detto il dottore che per un saggiusta trippa Ne ha che tutto odi, altro che pianta Ho detto che è tutto pagato, odi Eccomi, ma pensi che tu la sai? Questa è quella di Edsere, tu l'hai conosciuto Ho detto trova un posto senza zanzare e invece guardate qui Un incredibile successo per la prima retina della Compagnia del Polvarone Al Teatro Petrarca che ha messo in scena la nuova commedia invernacolo Pensione Adelina Grandi applausi, baci e abbracci e tutto il cast della Compagnia Che è sceso in mezzo alla gente alla fine dello spettacolo Godendosi così l'incredibile bagno di folla che ha caratterizzato la serata Nonostante il tutto esaurito nove giorni prima e con il botteghino che esponeva il sold out Tantissima gente ha cercato inutilmente un biglietto per entrare al Petrarca La bellissima scenografia realizzata da Paolo Cascianini Si è animata dai coloriti personaggi creati dalla fantasia di Roberta Sodhi E lo spettacolo è così subito decollato tra scherzi balletti Aree di vecchie operette reinterpretate da due sollisti d'eccezione come Andrea Sari e Stella Peruzzi Considerando le tantissime richieste di biglietti in evase e le pressanti richieste giunte anche il giorno successivo Prende sempre più corpo l'ipotesi di una replica dello spettacolo in tempi brevi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti